Paolo, quali sono le tre cose assolutamente da fare quando scriviamo un dialogo? Secondo me tre cose non bastano, ce ne vogliono molte, molte di più, ma se vogliamo dire le prime tre cose da fare o di cui tenere conto quando si scrive un dialogo, le prime tre cose che mi vengono a mente, quindi le prime tre cose per me che si devono fare quando scriviamo un dialogo sono innanzitutto ricordarsi che ogni personaggio ha la sua voce e quindi le frasi, le battute dette da un personaggio non devono essere identiche a quelle di tutti gli altri. E poi i personaggi non si devono dire cose che già sanno solo per farle sapere a noi, insomma un personaggio non deve dire all'altro come sai io faccio il poliziotto, come sai ieri è morta mamma, se lo sa non lo dice nemmeno, quindi adesso ho fatto degli esempi sui miei surreali, paradossali, però attenzione che qualche volta scriviamo davvero così, cioè i personaggi si dicono delle cose che già sanno perché l'autore vuole farle conoscere al lettore e così diventano dei dialoghi innaturali. La terza cosa forse è quella di ricordarsi e quando parliamo lo facciamo sempre per ottenere qualcosa, per sapere qualcosa, oppure per far sapere qualcosa a qualcuno o al contrario per nascondere qualcosa. C'è poi un'altra cosa importantissima, bisogna rileggere i propri dialoghi ad alta voce per capire se funzionano oppure no, per cercare di capire se funzionano oppure no. Se un dialogo che hai scritto non riesci a leggerlo nemmeno tu, o ti sembra innaturale anche a te che lo leggi, allora vuol dire semplicemente che non funziona, cioè è brutto, innaturale, non va, riscrivere.